Questo è dedicato a Mario Soldati, va di soldati, e ce lo stiamo fumando con Favata e Lucarelli, e ci facciamo soldati, Mario Soldati, anzi, stiamo facendo un mezzo soldati, mezzo soldati o un soldato? No, siamo a mezzo, adesso è un soldato, adesso è un soldato, però siccome ce lo dobbiamo finire a mezzo, è un mezzo soldato, e la leppa però in macchina, per cui chiediamo la patata dietro, C'è l'ha, c'è l'ha, c'è l'ha, adesso ce lo tagliano, da soldato diventano due soldati, mezzo soldati, due mezzo soldati, due fanti della prima guerra mondiale, ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.